Il quartiere di Porta Crucifera si aggiudica la 129esima edizione della giostra del Saracino. A regalare la 37esima lancia d'oro ai Rosso Verdi è stato il colpo d'esperienza di Alessandro Vannozzi, che è riuscito a correre una carriera perfetta andando a marcare il centro del tabellone. Una giostra che si è aperta subito con una sorpresa. I problemi al cavallo per Gian Maria Scortecci, che nell'impatto contro il Re delle Indie, ha perso la lancia, vanificando così il 4 colpito nel tabellone. Dopodiché è stata la volta di Stefano Cherici per Porta Sant'Andrea, che ha riscontrato le stesse difficoltà di Scortecci a portare il proprio cavallo in direzione del Pozzo. Dopo alcuni attimi di tensione è partita la corsa che si è conclusa sul 4. Non ha rischiato l'esordiente ingiostra di Porta del Foro, Andrea Vernaccini, con una carriera tranquilla per pareggiare i conti. E così è stato. 4 punti e Giallo Cremisi in corsa per la lancia. Anche per Filippo Fardelli un tiro che va a impattare sul tabellone contro il 4 è un risultato che non vede emergere nessun quartiere sugli altri. Al secondo round il compito per il cecchino Elias Cerchia stavolta è arduo. L'unica possibilità per rimettere in corsa i giallo-blu e spezzare la lancia con l'inevitabile pressione per una carriera in cui rischiare il tutto per tutto. Alla fine marca un punto con giostra da mettere nel dimenticatoio per proiettarsi direttamente con i pensieri all'edizione di settembre. Porta Sant'Andrea con Enrico Vedovini va alla ricerca del 5 che possa portare in vantaggi i bianco-verdi. Il tiro lambisce il pomodoro ma è un 4. Per Porta del Foro è il momento del secondo giostratore esordiente, Andrea Carboni, che realizza una buona carriera colpendo ancora un 4 e facendo presagire in piazza grande la possibilità degli spareggi. Ma l'esperienza di Alessandro Vannozzi ha prevalso su tutti centrando in pieno il pomodoro e regalando il trionfo numero 37 per il quartiere di Piazza Alberti che lo aspettava dal 4 settembre 2011.